Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente si registrano due chilometri di coda tra Incisare Gello e Firenze Sud in direzione Bologna, sempre in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Ilvivio con la variante di Valico. Sempre in A1 e sempre in direzione Roma, si ricorda che a causa di lavori, finale 18 di stasera rimarrà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio. Passiamo sulla 12 anche qui a causa di lavori, chiuso lo svincolo di Colle Salvetti fino alle 18 di oggi in entrata e in uscita in direzione Rosignano. Passiamo sulla PPL dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Chiudiamo con i treni il regionale 4132 diretto da Roma Termini a Pisa Centrale, viaggia con 38 minuti di ritardo. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!